Salve a tutti, come vedete mi trovo sulla una nave d'arcosciera della MSC, faccio un po' di pubblicità, e mi trovo esattamente in Nordiosa. Sto visitando i fiori di Montegesci, era una vacanza che decideravo da tanto tempo e finalmente sono qui. Quindi in questo frattempo non ci vediamo per gli esercizi di posturale, ma ci rivedremo sicuramente a settembre. Oltre a dare gli esercizi di genastia posturale, farò anche delle ricette di cucina semplici. Vi saluto e a presto. Grazie.